Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, corregge, il suo ex settimanale dalle colonne dell'Effet, in un mondo perfetto, Draghi dovrebbe rimanere premier per tutti i cinque anni del PNRR. Ma se questo è irraggiungibile, è giusto che si è eletto capo dello Stato e da quel ruolo per i prossimi sette anni sovrintenda le varie questioni. In un mondo perfetto, Mario Draghi dovrebbe rimanere premier per tutti i sei anni del piano nazionale di ripresa e resilienza degli investimenti pubblici e delle riforme. Ma se il risultato perfetto è irraggiungibile, è giusto optare per la migliore soluzione imperfetta, vale a dire che Draghi sia eletto presidente della Repubblica dal Parlamento a fine gennaio, e da lì per i prossimi sette anni sovrintenda alle questioni come capo dello Stato. Emmott scrive che questa seconda ipotesi è di certo la seconda migliore opzione, perché un'altra idea, di cui molto si discute cioè che Draghi possa rimanere primo ministro fino al 2023 non è che un'illusione. I progressi, considerevoli, compiuti in questi dieci mesi a Palazzo Chigi sono dipesi da un cessate il fuoco tra i partiti della coalizione che forma la sua maggioranza, al di fuori della quale c'è solo Fratelli d'Italia. Passata gennaio, quella tregua potrebbe reggere per altri sei mesi, al massimo, prima che la febbre delle elezioni inizi a salire. Sei mesi con le mani su un volante sempre più incontrollabile o sette anni a dirigere il traffico, questa è la vera opzione per Draghi, e per i parlamentari italiani. Solo quattro giorni fa su Draghi, indirettamente, si era espresso proprio l'economis premiando l'Italia. Non per l'abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l'europeo, né per le sue pop star che hanno vinto l'Eurovision Song Contest, scrive la redazione, ma per la sua politica. Il vincitore che abbiamo scelto ha acquisito un primo ministro rispettato e competente nel 2021. Ma l'economist, come notato nella rassegna stampa del Corriere qui, aggiungeva che Draghi vuole diventare presidente, un lavoro più cerimoniale, e potrebbe succedergli un premier meno competente.